Alla pagina economica di Rai News, in primo piano oggi i mercati con chiusure pesanti soprattutto per Madrid e per Milano con gli spread che rialzano la testa nei confronti del Bund tedesco. Che cosa pesa sui mercati la Spagna ma anche questa continua indecisione sull'unione bancaria. Ancora una volta la Germania e i paesi virtuosi si impuntano tanto che la Commissione Europea lancia un allarme e dice fate presto. Ma oggi è stata anche una giornata dove sono stati resi noti dei dati molto pesanti relativi al nostro paese, il calo netto dei consumi e anche il rapporto dello Svimex che fotografa la situazione nel sud dell'Italia e si allarga sempre il divario, sempre di più il divario con il nord. E poi allora parleremo poi della difficoltà di fare impresa, lo dice lo stesso rapporto di Svimex che appunto parla nel sud di un rischio di certificazione industriale che però in realtà ci fa capire anche che fare impresa nel nostro paese diventa sempre più difficile. Allora saluto gli ospiti di...